Buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo video sullo stato di avanzamento del cantiere di Villa Visconti d'Aragona che sta tornando agli antichi splendori grazie all'importante intervento finanziato con i fondi del PNRR. Presto avremo la nuova biblioteca con spazi accoglienti per i nostri lettori e per gli studenti e ci sarà anche un bar per rendere la permanenza dei nostri utenti più piacevole che mai. Villa Visconti aveva proprio bisogno di questo grande intervento di rigenerazione conservativa e grazie ai fondi del PNRR il progetto avanza nel pieno rispetto del cronoprogramma. Rispetto alla prima fase dei lavori che hanno interessato il miglioramento sismico e statico, ora si procede con la ricostruzione dell'intonaco, delle pareti perimetrali tramite rete metallica, barre di armatura. Con la sovraintendenza poi si è deciso di condividere tutto il percorso di restauro della Sala degli Affreschi, un grande patrimonio culturale e artistico di cui la nostra città deve poter godere il prima possibile. Ora al termine della fase di tinteggiatura delle facciate si procederà con lo smontaggio del ponteggio, poi sono previsti lavori per la realizzazione dei nuovi impianti elettrici, illuminotecnici, meccanici e dell'antincendio già a partire dalla metà di settembre. La nostra città è sempre più bella, sicura e funzionale grazie ai progetti di risanamento urbano che stiamo mettendo in cantieri in questi anni. Per oggi è tutto, vi do appuntamento a settimana prossima dove tornerò a raccontarvi di come procedono anche altri cantieri che abbiamo in giro per la città. Scrivetevi cosa ne pensate all'interno dei commenti e ci vediamo al prossimo cantiere.